E' certo che, sussistendo l'assenso dell'audito, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione sulla UETV e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Teoluzzi, sulla proiezione internazionale dell'Arma dei Carabinieri. Anche a nome del Presidente Rizzo e dei colleghi della Commissione Affari Estere e Difesa, saluto il Generale Luzzi, accompagnato dal Generale Giuseppe De Riggi e lo ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori. Ad introduzione di questa audizione mi limito a ricordare che l'impegno dell'Arma al di fuori dei confini nazionali è assai risalente, fin da quando un contingente dell'Arma, da poco istituita, partecipò nel 1855 alla campagna di Crimea, svolgendo compiti di polizia nella città di Costantinopoli, accanto alla polizia turca. Venendo ovviamente a tempi più recenti, a partire dai primi anni 90, nei Balcani l'Arma ha visto crescere il proprio impegno nel mantenimento della sicurezza internazionale, sperimentando quel modello operativo noto con l'acronimo MSU, Multinational Specialized Unit, che prevede l'impiego di forze di polizia ad ordinamento militare per colmare il cosiddetto divario di sicurezza, security gap, tra le capacità delle forze militari e le carenze della struttura locale di sicurezza. Fu così che nell'agosto del 1998, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nordatlantico, l'Arma schierò i propri uomini in Bosnia e Herzegovina, con il compito di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, assistere al ritorno degli sfollati e dei rifugiati, supportare l'insediamento dei governi e contribuire al controllo della crisi, in coordinamento con la missione civile di polizia delle Nazioni Unite, l'International Police Task Force. La formula si rivelò tanto efficace da essere replicata in ulteriori analoghi contesti, dall'operazione NATO in Albania, al Kosovo, stato in cui è tuttora presente un reggimento, all'Iraq, dove, ci ricordiamo tutti, l'attentato del 12 novembre 2003 a Nasseria costò la vita a 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, a cui rinnoviamo il nostro commosso e riconoscente ricordo. A partire dall'esperienza della MSU, la stessa Unione Europea ha sviluppato nel tempo lo strumento di unità integrate di polizia, Integrated Police Units, assetti capaci di operare nell'intero speto della capacità di polizia in scenari di sostituzione e di rafforzamento delle polizie locali. Le Nazioni Unite, invece, partendo dall'esperienza MSU, hanno sviluppato un ulteriore modello di riferimento, le unità formate di polizia, Format Police Units, con capacità prevalentemente di tutela del d'ordine e della sicurezza pubblica, in grado di operare nell'ambito di una catena di comando civile. Particolarmente stretto è il rapporto dell'arma con la Farnesina, con riferimento al ruolo del Comando Carabinieri, Ministero degli Affari Estri e della Cooperazione Internazionale, istituito con decreto ministeriale del 1999, posto alle dipendenze funzionali del Ministero degli Estri, tramite il Segretario Generale. Il Comando garantisce la vigilanza e la sicurezza del Ministero, di Villa Madama e dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, nonché delle sedi diplomatiche consolari italiane all'estero. Ufficiali dell'arma sono presenti presso le principali organizzazioni internazionali d'Europee, forniti questi elementi. Infine, l'arma è attivamente impegnata nella cooperazione internazionale e anche in altri settori, a partire dalla tutela del patrimonio culturale. A titolo di esempio, segnalo il progetto UNESCO, Unit for Heritage, i cosiddetti Caschi Blu per la Cultura, che ha visto il suo primo impegno nel teatro operativo iracheno, a sostegno delle delegazioni dell'UNESCO, nonché dei ministeri iracheni dell'interno della cultura e dell'antichità, per contrastare il traffico illecito di reperti archeologici. Richiamati questi pochi elementi di quadro, do ora la parola a Generale Luzzi, ancora ringraziandolo, perché svolga il suo intervento. Prego, Generale. Grazie, grazie Presidente. Un saluto unito a ringraziamento a lei e al Presidente Rizzo per l'opportunità che mi viene data di presentare l'impiego all'estero dell'arma dei Carabinieri. Uno spaccato meno noto agli italiani per tanti motivi, e quindi rappresentarono la sede costituzionale primaria, che il Parlamento è per me anche un momento di grande orgoglio istituzionale. Procedo ora con la relazione. I Carabinieri, da oltre 200 anni, sono parte integrante dell'identità del nostro Paese. L'arma, ovunque presente sul territorio italiano come noto, è custode delle nostre comunità ed è diventata nel tempo anche uno strumento operativo a disposizione della politica estera dell'Italia. Uno strumento affidabile, umanitario e pacificatore. Non a caso ho utilizzato questi tre aggettivi. Oggi, in questo momento, operiamo all'estero con oltre 700 Carabinieri, inclusi ovviamente le vigilanze alle ambasciate. Diciamo che è un numero in parte condizionato anche dal fenomeno pandemico. In passato, per una serie di esigenze di carattere operativo, e non solo, abbiamo raggiunto punte di circa 2.000 unità. Vi do questi due dati per darvi l'idea del minimo e del massimo. 700-2.000. Diceva il Presidente Fassino che già dal 1855 l'Arma ha partecipato alla prima missione internazionale proprio con funzioni di controllo del territorio e mi riferisco alla campagna di Crimea. Questo impegno, quindi in oltre 150 anni, è andato evolvendo nel solco della storia del nostro Paese, dalla nascita della Repubblica, con la sua Costituzione, e all'affermazione del multilateralismo e delle organizzazioni internazionali, definendo progressivamente un modello di intervento di straordinaria efficacia connotato oggi da due carattere distintivi. E questi sono i due elementi fondanti dell'impiego all'estero dell'Arma dei Carabinieri. Il primo risiede nella duplice natura dell'istituzione. Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, capace di abbracciare la difesa militare di obiettivi strategici e il contrasto dei traffici illecici internazionali, l'affermazione dei diritti umani e il ripristino dell'ordine pubblico. Il secondo aspetto riguarda il modo di operare, un modo sempre diretto a contatto con la popolazione, sottolineo a contatto con la popolazione, anche in luoghi distanti per geografia e per cultura della nostra patria. In questa cornice si colono le tre dimensioni della proiezione internazionale dell'arma. La prima tiene la cooperazione operativa di polizia, coordinata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. La seconda la partecipazione alle operazioni militari per la gestione delle crisi nelle alvo delle attività promosse dalla difesa. Il terzo il contributo all'azione diplomatica condotta dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Procedo ora all'esame della prima componente. Quanto alla cooperazione operativa di polizia, a fronte di un sistema criminale che guarda con visione globale e propri interessi, l'arma promuove da sempre attività di indagine e di respiro internazionale. Unitamente alle altre forze di polizia, partecipiamo ad oggi con 13 unità alla Rete degli Esperti per la Sicurezza e con 6 unità alla Rete Antidroga, che fanno capo al servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, con l'incarico di svolgere funzioni di raccordo informativo e operativo con le forze di polizia dei Paesi di distacco. Questo impegno oggi trova la più avanzata espressione in un settore di eccellenza, l'Ufficio Europeo di Polizia. Infatti, nell'ambito di Europol, l'arma contribuisce all'individuazione delle priorità strategiche di lotta al crimine dei Paesi membri. Nel quadriennio 2022-2025, l'istituzione sarà leader nella conduzione delle attività di contrasto nel settore dei crimini ambientali. Sul piano di rettamento operativo, prendiamo parte con qualificate risorse alle squadre investigative comuni, in grado di svolgere attività di indagine simultaneamente nei diversi Stati. Oggi ne sono state costituite ben 13 di squadre investigative comuni, in ambito, ovviamente, europeo. In questa prospettiva, abbiamo derito con convinzione la nuova architettura inquirente dell'European Public Prosecutor Office, cosiddetto EPPO, competente a perseguire i reati in danno del bilancio dell'Unione Europea. Collaboriamo con i procuratori europei e delegati per l'Italia, avendo già costituito unità investigative dedicate presso i sette distretti individuati dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura. I distretti giusto per cultura, ricordo, sono Bologna, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Hanno una competenza pluridistrettuale. La seconda dimensione dell'impegno dell'arma riguarda la partecipazione alle iniziative della difesa per la stabilizzazione delle aree di crisi. Le attività di stability policing nei teatri operativi completano lo spettro delle operazioni di intervento, collegando gli obiettivi propriamente militari con quelli politici di lungo termine, volti a restabilire l'ordine e la sicurezza pubblica. Il concetto strategico 2020 del Capo di Stato Maggiore della Difesa affida all'arma il luoro di lead service in questo settore, riconoscendo l'efficacia di un modello operativo promosso dall'arma sin dal 1997. In quell'anno, il generale Clark, comandante supremo delle forze alleate in Europa, colse il contributo dei carabinieri la soluzione per comare il security gap, di cui ne parlava prima il presidente Passino. Il security gap è venuto sia a determinare in Bosnia e Herzegovina, dopo l'intervento della Nato, tra le capacità degli assetti militari non addestrati per il mantenimento della sicurezza pubblica e le carenze delle forze di polizia locali. Quindi è partito questo progetto che poi è stato replicato in tanti altri paesi. Ve devo dire che ho avuto l'onore e l'onere, diciamo per quello che mi riguarda l'onore, di partecipare in qualità di Capo di Stato Maggiore alla prima Multinational Specialized Unit in Bosnia e Herzegovina. A distanza di oltre 20 anni siamo ancora presenti in Kosovo con il reggimento Carabinieri, il reggimento MSU, il cui acronimo Multinational Specialized Units è ormai noto a tutti. E questo credo che sia un elemento qualificante della nostra presenza in un'area molto delicata come nei Balcani. Infatti i carabinieri affiancano la Kosovo Polis, svolgendo anche autonomi servizi di pattuglia nell'area di Mitroviza, dove il personale dell'arma è particolarmente apprezzato per la capacità di mantenere il dialogo costante sia con la maggioranza etnica albanese della regione musulmana, sia con la minoranza serbo-ortodossa, stemperando le ricorrenti tensioni. Nell'area di Mitroviza siamo un po' i garanti con grande equilibrio della società di quell'area. Lo scorso 13 ottobre, nel nord del Paese, proprio il tempestivo intervento di personale del reggimento MSU ha consentito di gestire una situazione suscettibile di pericolose degenerazioni, connessa con l'esecuzione da parte della Polizia Kosovara di alcune misure cautelari. Per questo il Ministero degli Affari Interni Kosovaro ha chiesto di incrementare l'impegno dell'arma per le attività formative a favore della Polizia, in particolare nel settore delle investigazioni scientifiche, delle tecniche di indagine e del contrasto alla criminalità organizzata e alla violenza di genere. Contestualmente, su questo aspetto vorrei sottolineare anche un aspetto mio personale. Quando sono stato due mesi fa in visita ai miei carabinieri in Kosovo, il Ministro degli Interni mi ha premurato questa esigenza di potenziamento dell'arma dei carabinieri per la formazione della Polizia Kosovara. Contestualmente, la nostra presenza nella Regione ci consente di sviluppare una manovra informativa per l'individuazione di cellule radicali, le cui risultanze sono condivise sempre nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antitorrismo, il cosiddetto CASA, che oggi hanno portato all'adozione di 160 provvedimenti di inammissibilità in area Schengen. Praticamente dal 17 a oggi, quindi in quattro anni, il reggimento MSU ha intercettato, in collaborazione con la Polizia Kosovara, ben 160 ipotesi di soggetti pericolosi per l'Europa e quindi segnalati tramite il CASA e sono stati interdetti gli accessi in area Schengen. Un'attività informativa importante, qualificante, che significa di fatto prevenzione. Parliamo ora di teatri operativi. L'obiettivo della prevenzione avanzata è il comune denominatore della presenza dei Carabini nei 13 teatri di intervento. In queste aree, a fronte della pandemia, abbiamo preservato le capacità operative essenziali e ora stiamo riprendendo le attività di addestramento, assistenza e consulenza a favore delle forze di sicurezza locali. In particolare, i nostri istruttori hanno ripreso le CASA nei Paesi che richiedono la collaborazione, svolgendo a domicilio corsi di diversa natura, dalle tecniche di intervento operativo alla formazione degli artificieri antissabotaggio e delle unità cinofile al rispetto dei diritti umani e per la tutela di genere. Ne cito alcune a titolo anche esemplificativo. A Djibouti, la missione addestrativa e di supporto, cosiddetta MIADIT, forma le forze di sicurezza somole unitamente alle forze della Gendarmeria e della Polizia Nazionale di quel Paese. L'addestramento delle forze di sicurezza somole viene fatto a Djibouti per motivi di sicurezza. In Palestina, abbiamo svolto un'analoga missione sino al 2020, addestrando le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese. Le attività sono riprese dall'inizio di questo mese, con il supporto dell'autorità di coordinamento statunitense per la sicurezza tra Israele e l'autorità palestinese, nel cui ambito opera anche un ufficiale dell'arma. E questo, credo che, è un elemento che dà lustro anche all'arma all'Italia, il fatto che contribuiamo a addestrare le forze palestinesi, mi riferisco a Cisdordania, secondo ovviamente dei valori più propriamente europei. Nel Sahel abbiamo distaccato tre ufficiali con compiti di consulenza nell'ambito del progetto dell'Unione Europea denominato Garci-Sahel, finalizzato ad assista alle gendarmerie del Senegal, della Mauritania, del Mali, del Niger, del Burkina Faso e del Chad, nella formazione di unità specializzata nel pattugliamento delle frontiere anche in funzione antiterrorismo. Per il 2022, l'arma si è candidata ad assumere il ruolo di co-leader dell'iniziativa europea, avendo conseguito il cosiddetto Pillar Assessment, una certificazione che ha accreditato l'istituzione tra i soggetti ai quali la Commissione Europea può concedere la gestione di progetti con i relativi fondi. Libia e Iraq. In prospettiva notiamo importanti aspettative per l'avvio delle nuove attività di stabilizzazione in Libia e in Iraq. Sul fronte libico, pur nella perdurante frammentazione delle frazioni, abbiamo predisposto una roadmap quinquennale dal 2021 al 2025, pianificando le attività da svolgere a favore delle forze di sicurezza libiche nell'ambito della cooperazione bilaterale con la difesa. In Iraq, dopo il ripiegamento degli assetti della collezione globale anti-ISIS, la Nato ha inteso espandere i propri compiti di supporto alla ricostruzione del Paese, affitando all'Italia il comando della missione per il 2022. Come ben noto ai membri della Commissione Difesa? Per questo, l'arma ha offerto i propri assetti per attivare la Police Task Force che dal 2015 ha formato ben 38.000 unità delle forze di sicurezza irachene come peraltro recentemente ho spiegato dal Ministro dell'Interno iracheno. Forze di sicurezza irachene che sono preposte essenzialmente all'attività di ordine pubblico per cui le addestriamo secondo criteri meno invasivi e più di cultura europea, giusto per dare un significato a questo termine. Ora parlo della terza dimensione, il coordinamento del MAECI. La terza dimensione dell'attività internazionale svolte dall'arma cui prima facevo cenno è ricondotto al perimetro di azione del Ministero degli Affari Esteri e si svolge in due ambiti. Da un lato la cooperazione bilaterale con le forze di sicurezza dei Paesi che guardano con interesse il modello istituzionale dell'arma, dall'altro la protezione delle sedi diplomatiche nazionali e all'estero. La cooperazione bilaterale si declina in numerosi progetti di capacity building attuate attraverso la proiezione di training team per attività formative di breve durata o l'affiancamento di strategic advisor ai vertici delle amministrazioni interessate. Alcuni esempi. Abbiamo proiettato un mobile training team negli Emirati Arabi Uniti a favore della Polizia di Abu Dhabi nonché in Qatar per la formazione della Guardia dell'Emiro della Polizia Militare e dell'Alecuia. In particolare il rapporto con l'Alecuia risale al 2001 lo cito perché è un esempio molto significativo. Nel 2001 quando sotto gli auspici del Presidente Mattarella all'epoca Ministro della Difesa il Comandante Generale Protempore firmò un accordo di collaborazione nel settore addestrativo con il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate del Qatar segnando la nascita di questa organizzazione che di fatto rappresenta la gendarmeria locale. L'apprezzamento trasversale da parte di paesi della penisola arabica molto distanti tra loro sul piano politico ovviamente rende la misura del vantaggio diplomatico di queste collaborazioni tecniche operative. Parimenti prosegue la diffusione dell'offerta formativa nel continente africano dove svolgiamo attività addestrativa a favore delle Forze di Sicurezza del Senegal Uganda Camerun Kenya e Burkino Faso in tema di prima risposta agli attacchi terroristici gestione dell'ordine pubblico e della polizia stradale. Per altro verso l'invito di strategic advisor consulenti per intenderci realizza una vera e propria military diplomacy animata da un autentico spirito di accompagnamento e di crescita reciproca delle istituzioni coinvolte in grado di apportare anche vantaggi sul piano distruiale valorizzando le aziende nazionali che già forniscono materiali e equipaggiamenti all'arma. La proiezione di mobile team e la dislocazione di advisor si colano con entambe nel quadro delle intese tecniche di cooperazione che il comandante generale può concludere ai sensi del codice dell'ordinamento militare e su delega del capo di stato maggiore della difesa con paritetici organismi dei paesi di preminente interesse strategico nazionale. Sinora abbiamo siglato accordi con le forze di sicurezza di 12 paesi speriamo di giungere al breve alla conclusione dell'intese con la Guardia Nazionale del Kuwait siamo a buon punto ma soprattutto con la Polizia di Dubai quest'ultima se conclusa potrebbe essere anche un buon segnale di distensione nelle relazioni internazionali del nostro paese con gli Emirati Arabi Uniti e devo dire che in questo in questo aspetto la Polizia di Dubai sta premendo per chiudere questo accordo ovviamente non lo faremo semmai ci darà l'ok tra tutte cito due esperienze che ritengo particolarmente significative nel 2017 abbiamo distaccato un ufficiale dell'arma presso la divisione dei gendarmeria della Polizia federale messicana l'esperienza è stata indirizzata anche ad offrire al paese nuovi strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo diffuso presso le istituzioni e ha contribuito alla Costituzione nel 2019 della Guardia Nazionale Forza di Polizia posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Interno e gerarchiche del Ministero della Difesa tipo l'arma dei Carabinieri oggi questa iniziativa sta ulteriormente evolvendo con il progetto di attivazione di un nucleo per la tutela del patrimonio culturale sul modello del reparto speciale dell'arma Ruanda sempre dal 2017 abbiamo distaccato in Ruanda un ufficiale quale advisor dell'Ispettore Generale della Polizia Nazionale e Ruanda dopo la ferita inferta dal genocidio intende assumere un ruolo aggregante nella bussola geostrategica dell'aria impedendo penetrazioni estremiste nel luglio scorso un contingente di mille unità ruandesi parte delle quali adestrate dall'arma è stato inviato nella regione di Capo Delgado in Mozambico per contrastare un gruppo terrorista islamico nel corso di un recente viaggio che io ho fatto nel paese sono stato ricevuto dal presidente Kagame che ha evidenziato come proprio le unità adestrate dai carabinieri abbiano sviluppato un approccio positivo con le popolazioni locali dei villaggi del Mozambico un unicum nello scenario africano affermando quella capacità di dialogo che è un tratto distintivo della cultura di polizia dell'arma e del nostro paese nel solco di questa proficua collaborazione contribuiamo con il nostro istruttore allo sviluppo delle attività del National Police College ruandese dove vengono formati ufficiali provenienti da 22 paesi del contenente africano paesi ovviamente dell'area centrale inoltre abbiamo già offerto la nostra disponibilità a sostenere l'attività dell'istituendo centro antiterrorismo che aspira a proporsi un quale hub formativo regionale nel settore in questo modo l'arma si accredita con un complesso di paesi di centrafica esporta la propria cultura e indirettamente apprende un po' più in dettaglio dinamiche locali che poi di fatto hanno anche ricadute a livello internazionale la cooperazione bilaterale con il Rwanda ha favorito anche la penetrazione dei prodotti nazionali nei mercati locali aziende quali Lavazza Illycaffè Leonardo S.p.a e Vetrociset si sono abattacciate del network esistente per lo sviluppo delle proprie attività di impresa non è molto ma è un ottimo esempio di come quando l'Italia riesce a fare sistema è possibile la fedelizzazione di paesi lontani l'auspicio di poter replicare analoghe esperienze in altre aree del continente africano in Uganda paese con cui l'Italia intratiene intense relazioni commerciali abbiamo svolto corsi ranger per la formazione del personale da destinare alla sorveglianza dei parchi contro il bracconaggio i corsi sono stati svolti personale specializzato del reparto carabinieri forestale affiancati da unità del primo reggimento carabinieri paracotisti di Tuscania per gli aspetti connessi con il pattugliamento in sicurezza abbiamo siglato un accordo con l'IS Africa Policies Chief Cooperation Organization organizzazioni che riunisce i capi delle polizie dell'Africa orientale inoltre dello scorso primo ottobre l'arma ha distaccato un ufficiale generale quale esperto di capacity building del rappresentante permanente italiano presso l'Unione Africana in Addis Abeba parliamo ora della sicurezza delle sedi diplomatiche il secondo aspetto attiene all'impegno estero direttamente connesso con le attività del MAECI ovvero la sicurezza delle sedi del personale diplomatico nazionale all'estero si tratta di una funzione attribuita all'arma dal codice dell'ordinamento militare per il quale impegniamo un aumento 400 unità in 140 sedi di cui 15 a rischio è un impegno non privo di criticità emblematicamente emersa in attività svolte in Afghanistan dove i carabinieri del primo reggimento carabinieri di Tuscania anche dopo gli attacchi hanno continuato a garantire la sicurezza del personale diplomatico e a sostenere con grande efficacia le operazioni di evacuazione dei profughi civili insieme al console fino al rientro in patria con l'ultimo volo ne dimentichiamo la drammatica vicenda in Congo dove il carabinieri Vittorio Iacovacci ha perso la vita assieme all'ambasciatore Luca Attanasio nel corso di una missione a sostegno di un progetto umanitario dal primo gennaio 2022 il contingente sarà incrementato di 50 unità già prevista dalla legge 106 del 2021 nello schema della legge di bilancio inoltre la prossima legge di bilancio è stata inserita un ulteriore incremento di 90 unità auspichiamo che l'iniziativa possa trovare la condivisione del Parlamento per conseguire l'obiettivo strategico di dispiegare almeno un militare dell'armo presso ogni sede diplomatica Stability Policing Capacity Building e Military Diplomacy sono dunque le forme che sintetizzano le peculiari capacità maturate dall'arma a favore della comunità internazionale una esperienza davvero unica oggi capitalizzata nel pollo della caserma Chinotto di Vicenza dove operano il COESPU Centro d'Eccellenza per le Polizie di Stabilità principalmente orientato verso le Nazioni Unite ovviamente sotto l'egida dell'ONU poi c'è il Centro d'Eccellenza Nato per le Polizie di Stabilità il Nato Espicoe sotto dipendente un organismo della Nato e il quartiere generale permanente della Forza di Gendarmeria Europea meglio conosciuto come Euro-Gend4 prioritariamente dedicato alle operazioni di crisis management dell'Unione Europea colgo l'occasione per invitare i signori parlamentari qualora avessero tempo perché merita veramente una visita alla caserma di Vicenza con questi trecenti veramente interessante il COESPU il COESPU nato nel 2005 come progetto italo-stattunitense ad oggi addestrato oltre 12.000 PISKIPER proveniente da 122 differenti Paesi e 17 organizzazioni internazionali e destinate all'impiego in missioni sotto egida delle Nazioni Unite di recente il Centro ha ospitato la settima edizione dell'esercitazione sviluppata dall'OSCE per il contrasto alla tratta degli esseri umani a favore di 45 partecipanti rappresentanti di forze di polizia ONLUS e magistrati provenienti da Austria Canada Danimarca Georgia Germania e Spagna personalmente ho partecipato alla cerimonia di chiusura dell'evento insieme alla segretaria generale dell'OSCE Elga Maria Schmid che ha fortemente auspicato la possibilità di proseguire attività negli anni a venire anzi veramente auspicato un potenziamento di questo tipo di attività il secondo centro è un centro di eccellenza alleato per la polizia di stabilità nell'ambito del quale Italia riveste il ruolo di framework nation nel settore la Nato si è dotata di una dottrina di livello operativo di cui l'arma è custode per l'alleanza atlantica con un ultimo sforzo diplomatico speriamo che entro il 2022 speriamo di far riconoscere tale funzione a livello strategico attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Atlantico di un documento lo Stability Policing Concept elaborato con il contributo degli ufficiali dell'arma impiegati presso l'Ide Command for Transformation il comando strategico della Nato negli Stati Uniti sempre Vicenza trova collocazione il quartiere generale della Forza di Gendarmeria europea nata nel 2004 con l'adesione dei cinque Stati dell'Unione Italia Francia Spagna Portogallo e Olanda cui si sono giunti successivamente Romania e Polonia il trattato istitutivo prevede che IGF possa schierare IPU per missione di sostituzione o di rafforzamento delle forze di polizia di paesi collassati durante tutte le fasi di un'operazione di gestione delle crisi al momento questo strumento ha trovato un limitato impiego piccoli team IGF sono stati schierati in Afghanistan Mali Bosnia Zegovina Kosovo Aite Repubblica Centroafricana Libia Niger Ucrania e Tunisia Tuttavia con la ripresa del dibattito europeo sul progetto della difesa comune IGF può offrire un modello per così dire embrionale di capacità a dimostrazione questo progetto non ha nulla di utopico e può essere effettivamente realizzato se sostenuto dalla volontà politica dei paesi Un ultimo accenno va alla valorizzazione internazionale dei comparti specialità attribuiti all'arma Il decreto legislativo 177 del 2016 ha consolidato la ripartizione tra le forze di polizia dei comparti specialità affidando ai carabinieri le funzioni di sicurezza in materia di sanità ambiente lavoro e patrimonio culturale Si tratta di eccellenze che hanno anticipato in alcuni casi bisogno di sicurezza e sensibilità in settori direttamente connessi con la qualità della vita Basti pensare che la nascita del comando carabiniere per la tutela del patrimonio culturale risale al 1969 e il comando carabiniere per la tutela ambientale è stato istituito nel 1986 La conservazione del patrimonio culturale in cui si riflette l'identità di ogni paese è una priorità oggi universalmente riconosciuta Il progetto UNESCO United for Heritage i cosiddetti caschi blu per la cultura presentate anche alla riunione dei ministri della cultura del G20 ha portato la costituzione di un assetto interministeriale composto da funzionari del ministero e carabiniere del comando tutela patrimonio culturale unico nel suo genere a livello internazionale che ha visto il suo primo impegno nel teatro operativo iracheno per contrastare il traffico illecito di reperti archeologici da ultimo nell'ambito del programma europeo TAIEX è in progetto l'avvio di un'attività formativa a favore della polizia turistica libica con l'obiettivo di potenziare le capacità nel settore della tutela del patrimonio culturale altra tematica di particolare rilevanza nell'agenda della comunità internazionale è la salvaguardia dell'ambiente oggi dopo l'unificazione con il corpo forestale dello Stato quasi 7.000 carabinieri di elevata qualificazione sono dedicati con visione unitaria al controllo del territorio in funzione di polizia ambientale siamo referenti per l'Italia dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio i cui risultati sono stati presentati nella recente conferenza per il COP26 di Milano siamo custodi della convenzione CITES per il contrasto al commercio internazionale illecito delle specie in via d'estinzione operando controlli e certificazioni su tutto il territorio nazionale oggi contribuiamo con 55 unità tramite il ministero della transizione ecologica alla rete di esperti ambientali dell'UNESCO i cosiddetti caschi verdi qualcosa di analogo ai caschi blu della cultura si tratta di unità specializzate da impiegare in affiancamento alle autorità locali per la realizzazione di progetti a salvaguardia dei siti naturalistici riconosciuti patrimonio dell'umanità in prospettiva stiamo investendo risorse qualificate su due progetti di eccellenza il primo si inquadra nella collaborazione in atto con la FAO in virtù di un protocollo d'intesa siglato nel 2017 abbiamo svolto corsi a favore dei funzionari FAO per affrontare situazioni di rischio in ambienti non permissivi ora in fase conclusiva un accordo operativo per l'invio in paesi selezionati di timidi esperti nei settori della prevenzione incendi della tutela delle specie in via d'estinzione dell'ingegneria forestale per combattere la desertificazione contiamo di siglare il protocollo entro l'anno il secondo progetto riguarda l'evoluzione del centro di addestramento di Sabaudia disallocato nell'area del parco del Circeo in un centro di eccellenza internazionale da offrire all'agenzia dell'ONU impegnate nelle questioni ambientali per attività di formazione a favore di paesi in via di sviluppo con un focus sull'Africa mi avvio a concludere l'arma rappresenta uno strumento operativo prezioso a disposizione del governo italiano in grado di svolgere una triplice funzione la prima è quella di instaurare un dialogo dedicato con le forze di sicurezza locali da sempre attori strategici nel processo di crescita dei paesi in via di sviluppo il secondo è quello di iniettare elementi di governance utili alla maturazione delle istituzioni locale secondo standard internazionali pienamente rispettosi dei diritti umani e dell'ambiente il terzo è quello di favorire relazioni privilegiate del nostro paese con stati in crescita istituzionale ed economica troppo spesso condizionati da politiche assertive di altre nazioni in quale Cina Russia e Turchia e soprattutto mi riferisco all'Africa l'arma assolve queste funzioni con le stesse risorse impiegate sul territorio nazionale che ripropongono all'estero il modello istituzionale dotato in patria il volto rassicurante del comandante di stazione che ognuno di noi può incontrare sul territorio nazionale è lo stesso che approccia con efficacia popoli e culture diverse questa è l'anima che l'arma porta al sistema paese nel confronto con la comunità internazionale è nota la frase di Tolstoi se vuoi essere universale parla del tuo villaggio non è un caso che all'interno del padiglione Italia all'Expo di Dubai sia presente anche una pattuglia di carabinieri collocata all'ingresso di una stazione fedelmente riprodotta in quello spazio dispositivo è ovviamente per noi momento di orgoglio permettetemi dunque di rivolgere l'ultimo pensiero proprio ai miei carabinieri che con la loro perseveranza con la loro determinazione con la loro professionalità restituiscono anche nel mondo l'immagine più bella del nostro grande paese grazie a voi per l'attenzione grazie generale per questa ampia dettagliata esauriente esposizione allora io ho già parecchi iscritti a parlare chiedo ai colleghi naturalmente di contenere gli interventi per consentire a tutti di prendere la parola ho chiesto la parola all'onorevole Tripodi di Forza Italia della commissione difesa prego grazie presidente generale grazie per la sua esaustiva relazione che ha fatto conoscere anche in questa sede istituzionale il grande valore dell'arma dei carabinieri che anche all'estero dà veramente lustro al nostro paese io lei ha toccato tanti punti io mi volevo soffermare in particolare su due temi e quindi le porgo due domande lei ha recentemente avuto una visita in Ruanda e noto che i carabinieri sono da sempre protagonisti apprezzati nelle missioni internazionali come appunto dicevo all'inizio di questo mio intervento le chiedo quanto sia importante per il nostro paese che le missioni proseguano soprattutto rispetto agli attuali scenari nel continente africano e la seconda domanda che vorrei porle è la seguente da poco c'è stato nei Balcani l'avvicendamento al comando della missione del contingente K4 della missione K4 che ha visto il subentro del comando ungherese dopo 15 anni di guida italiana quali equilibri si evolveranno secondo lei nella regione e che rapporti abbiamo noi come Italia rispetto alle forze ungheresi la ringrazio bene prima di dare la parola al pagani voglio solo dire che è già previsto che alla fine della presenza della direzione ungherese ritorni la guida all'Italia comunque poi il generale spiegherà onorevole pagani grazie presidente grazie generale per l'illustrazione delle tante attività che svolgono i carabinieri a proposito di questo io vorrei fare una domanda alla quale anticipo una breve premessa delle tante attività che vengono svolte al di là del lavoro di polizia militare sempre apprezzato e apprezzabile c'è un aspetto che a me interessa particolarmente che trovo molto attuale perché negli paesi che stanno nel quadrante di nostro maggiore interesse cioè l'area del medialista e nordafrica cioè il cosiddetto mediterraneo allargato l'intervento delle missioni di pace si innesta su realtà statuali che non sono stati falliti ma non sta neanche bene ecco diciamo sono realtà estremamente fragili nel quale l'esigenza principale di formazione delle capacità di sicurezza interna di polizia è un misto tra una necessità di carattere militare di proteggere la popolazione e lo Stato dalle incursioni di bande armate jihadiste quindi in grado di sostenere vere e proprie azioni di guerra o di guerriglia è un'attività più tradizionale di sicurezza di polizia di ordine pubblico peraltro molti di questi paesi hanno alcuni legami con il nostro purtroppo legati ad attività di carattere criminali cioè penso al traffico di stupefacenti al traffico di armi in una direzione opposta in genere al più incivile di tutti al traffico di esseri umani di speculazione sull'immigrazione clandestina i carabinieri hanno competenze anche nel territorio nazionale legate a queste attività che si integrano con le capacità che poi possono essere in grado di trasmettere e di produrre in questi paesi terzo luogo capacità particolari specifiche dei carabinieri come quella che ha citato prima del nucleo di protezione del patrimonio culturale o anche del patrimonio ambientale che richiedono competenze anche nel settore della polizia giudiziaria cioè capacità di indagine per queste ragioni non so se il modello dei carabinieri sia un unicum nel mondo ma sicuramente un'eccellenza che riesce a fornire un servizio nel state building nel capacity building molto apprezzato ora arriva la domanda in questo momento per ragioni contingentiche legate alla vicenda afghana si è aperto un dibattito sulla difesa europea sperando che questo dibattito non sia come le luci dell'albero di Natale cioè che si accendono e si spengono e stanno facendo poco tempo ma che permetta di sviluppare un lavoro a me pare insomma che l'Italia abbia nel mazzo delle sue carte una carta di particolare pregio che è proprio l'arma dei carabinieri nella capacità di poter offrire su uno scenario europeo una funzione che anche specialmente nei paesi paradossalmente che hanno una cultura francofona quindi sono abituati alle gendarmeriche però noi facciamo particolarmente bene forse meglio di tutti gli altri ora lei crede che questa possa essere una delle leve su cui il nostro ministro della difesa il nostro presidente del consiglio cioè il nostro governo può promuovere un'iniziativa sul terreno europeo per costruire un progetto integrato naturalmente con le modalità e con le alleanze come la Nato di cui noi facciamo parte per farci carico di quelle realtà di crisi che saranno in futuro sempre più sulle nostre spalle cioè quelle del Mediterraneo essendo che il centro strategico di interesse dei nostri alleati oltreoceano si è spostato su un'altra area mondiale quindi dobbiamo imparare a gestirci da soli i nostri problemi nel Mediterraneo forse la difesa europea in questo senso può diciamo costruire un modello che ancora non conosciamo come modello integrato nella parola all'onorevole Migliore Italia Viva della Commissione Estera grazie signor Presidente grazie al Comandante per questa esauriente relazione e devo dire che come tutti noi sappiamo in questa Commissione il contributo e l'originalità della competenza dell'arma sono davvero uno degli elementi di maggiore forza della nostra proiezione internazionale ed è per questo motivo che ritenendomi ampiamente soddisfatto della sua illustrazione volevo chiederle alcune valutazioni rispetto a ciò che diciamo è in via di evoluzione in particolare sia sul versante della politica criminale quindi della collaborazione sul versante sia Europol che Eppo e quali potrebbero essere gli ulteriori sviluppi in relazione anche all'estensione delle competenze della Procura Europea anche perché sappiamo che la richiesta dell'Italia era una richiesta di estenderla anche oltre i reati in danno del bilancio dell'Unione in particolare immagino quelli di contrasto al terrorismo e alle minacce globali la seconda questione invece riguarda la capacità che abbiamo riscontrato in più occasioni di intervenire in diciamo in contesti dove vanno formate le forze per la sicurezza e l'ordine pubblico oggi tutti i conflitti sono conflitti asimmetrici quindi diciamo il conflitto asimmetrico richiede una competenza di questa natura anche perché è difficile immaginare un teatro di intervento che non abbia queste caratteristiche sia quando sono presenti attività conclamate di carattere terroristico sia quanto avviene per le diciamo i movimenti e le situazioni di crisi che si determinano sui territori quindi se nel modello di difesa europea non debba essere prioritario più che la difesa dei confini la integrazione che diciamo così è una vocazione naturale di qualsiasi operazione coordinata di difesa la vocazione a costituire una difesa europea che abbia le caratteristiche del mantenimento della sicurezza cioè in questo senso se la proposta italiana può andare nella direzione di comprendere anche il mutato scenario visto che peraltro ci potrebbe essere anche una sovrapposizione con compiti operativi della Nato e in questo credo che i carabinieri l'arma dei carabinieri potrebbe essere il modello di riferimento grazie il collega De Idda della commissione difesa dei fratelli d'Italia prego grazie presidente comandante grazie per la sua relazione sicuramente poi la conserverò e la leggerò anche con maggiore attenzione per prendere spunti e costruire anche delle migliorie e arrivo anche alla domanda perché sarò rapido nel vostro impegno all'estero purtroppo abbiamo visto anche dei fatti purtroppo tragici che sono accaduti soprattutto anche per quanto riguarda la protezione delle ambasciate ci sono stati dei tagli in questi anni quindi lo faccio senza polemica quindi trasversalmente c'è quindi una sottovalutazione della politica nei riguardi dell'attenzione perché poi purtroppo il clima sta cambiando il clima geopolitico sta cambiando in tutti e siamo circondati da conflitti e situazioni difficoltose quindi magari non ci si è accorti che forse c'è bisogno di maggiore attenzione verso questo quindi se è possibile anche se è auspicabile un rafforzamento anche all'arma dei carabinieri sia negli uomini perché poi come abbiamo detto in altri contesti la coperta diventa accorta anche con l'invecchiamento del personale e c'è bisogno di altri numeri poi se posso permettermi una proposta visto che avete parlato del vostro compito di carabinieri forestali se può interessare un accordo con la regione Sardegna che è depositaria col corpo forestale della regione Sardegna del registro io lo dico con maggiore dettaglio mi perdoni del registro del catalogo regionale degli ordini incendiari come corpo investigativo siamo una una delle regioni forse capofila in questo in queste competenze se voi potete essere depositari di questo registro che diventerebbe così patrimonio nazionale grazie signor Deida onorevole Formentini della Lega della Commissione Est grazie presidente e grazie comandante è stato davvero un quadro completo quello che ci ha reso testimonia un impegno enorme a vantaggio del nostro paese io ho apprezzato particolarmente del suo intervento il riferimento alla possibilità di fare sistema paese e ha anche citato il caso specifico del Ruanda con la penetrazione dei prodotti italiani e la fidelizzazione quindi di questi paesi esteri questo secondo me deve essere un obiettivo e deve essere fatto su larga scala magari se avesse anche dei suggerimenti per il nostro Parlamento per migliorare questa penetrazione del sistema paese che spesso purtroppo è carente ci ha illustrato benissimo il grande lavoro l'enorme lavoro che svolge l'arma dai caschi blu per la cultura ai caschi verdi e però l'elemento chiave a mio avviso è quella grande capacità che peraltro ha anche sottolineato di dialogo che è una capacità tutta italiana che ci viene riconosciuta in tutto il mondo e che si esplica ad esempio in Kosovo laddove a protezione dei monasteri serbo-ortodossi se non ci fossero stati anche i nostri uomini dell'arma i rischi sarebbero sicuramente stati molto più grandi ma non solo il Kosovo che ormai è un caso noto ma ho letto con piacere anche in Mozambico dove le forze addestrate con contributo dell'arma dei carabinieri hanno avuto un approccio per così dire più sensibile alla popolazione locale e quindi capacity building è un enorme enorme lavoro ecco l'apprezzamento trasversale nella penisola arabica anche questo è un elemento importantissimo e da sottolineare paesi come Qatar e gli Emirati che entrambi si affidano alla consulenza dell'arma per quanto riguarda la commissione esteri nostro grande impegno come rega è stato ma con tutti gli altri gruppi politici proprio volto il potenziamento della presenza dei carabinieri nelle nostre ambasciate ho letto della volontà di arrivare almeno a un carabiniere per ogni ambasciata ovviamente per noi se si potesse fare di più sarebbe ancora meglio quindi continuerà a sostegno con emendamenti legge di bilancio dopo legge di bilancio grazie di cuore altri colleghi da remoto non vedo altre richieste prego chi è sono Perego se posso pericolosi Perego accendi ecco perfetto prego grazie grazie presidente grazie signor comandante per la sua relazione solo due aspetti vorrei sottolineare che ho potuto misurare tra l'altro di persona in particolare ad esempio l'apporto dei carabinieri in Niger ed è la dimostrazione di quella capacità tipica degli uomini dell'arma dei carabinieri di riuscire a generare empatia oltre che a livello molto efficace di professionalità nell'addestramento delle forze locali e dico questo perché a volte sono anche capaci di sopperire a quelle lacune del sistema paese in particolare in Niger dove voglio citare l'esempio proprio questo dove noi addestriamo le forze di polizia locale ma poi non manchiamo ne quell'aspetto di fornitura di materiali con le limitazioni a volte che dipendono dalle nostre scelte politiche e quindi in questo senso almeno abbiamo la capacità con i nostri carabinieri di incidere e affermare anche l'influenza del nostro paese in questi territori l'altro aspetto importante ed è un auspicio forse per il futuro quando si parla di maggiore intervento e capacità dell'Europa di poter guardare all'autonomia strategica e intervenire in certi teatri a me viene in mente immediatamente il nucleo di protezione del patrimonio culturale che ad esempio se l'Italia avesse in qualche modo deciso di intervenire nel conflitto in Siria sarebbe potuto essere schierato in quel patrimonio culturale enorme che è il sito di Palmira il sito antico romano di Palmira così come a tutela del patrimonio dello Iemene questo è ovviamente un auspicio per il futuro l'altro aspetto importante che volevo sottolineare sul quale invece vorrei proprio fare una domanda specifica siccome l'area del triconfine tra Burkina Faso Mali e Niger è attraversata da fenomeni di crescita esponenziale del jihadismo islamista se crede che impiegare i carabinieri anche in una funzione diciamo di intelligence incrementando nella presenza possa monitorare questo flusso di terrorismo che si espande diciamo dal Sahel fino alla Libia e che coinvolge poi anche il Mozambico in tutta altra regione dell'Africa che per ora rappresentano una minaccia seria per il nostro paese grazie altri bene allora do la parola al generale per le risposte grazie prego generale grazie alcune risposte in sintesi siamo partiti da Ruanda io penso che sia un bellissimo esempio di impiego dell'arma di carabinieri all'estero proprio quello del Ruanda perché oggi abbiamo una grandissima considerazione con il paese un paese che chiaramente ha canoni africani ma un paese anche piccolino ma in crescita è diventato un riferimento per tanti paesi dell'Africa centrale e guarda all'Italia come un paese di riferimento non solo l'arma ma guarda l'Italia e questo per noi credo che sia un elemento qualificante l'esperienza di Ruanda può essere sicuramente replicata in tanti paesi africani ovviamente valutando di volta in volta le opportunità ma già di per sé essendo diventato un hub per 40 paesi centrafricani in termini di addestramento 20 già sono in atto con corsi al loro college che sarebbe l'accademia sia adesso questo nuovo centro di antiterrorismo in cui ci hanno chiesto la collaborazione significa esportare la nostra cultura rispetto a questi paesi che vanno al di là del Ruanda e comunque anche tenere capire le dinamiche dei paesi africani che poi significa anche prevenire eventualmente riflessi in altre aree anche incluse quelle europee perché ormai il sistema è globale K4 è un discorso a parte non è cambiato nulla in Bosnia e in Kosovo perché tutto sommato è cambiato il comandante beh queste sono scelte della Nato ma l'anno prossimo tornerà a essere un comandante italiano noi peraltro parlo come Carabinieri abbiamo un ottimo rapporto con la polizia militare ungherese abbiamo auspicato di avere personale della polizia militare un plotone o un paio di plotone dentro la multinational specialized unit perché comunque ci darebbe un contributo organizzativo anche di maggiore internazionalità del nostro del nostro comando c'è questa volontà del governo Kosovo di avere più Carabinieri poi sono delle scelte ovviamente che dovranno essere fatte abbiamo un rapporto eccezionale anche con la parte serba a sua nord quindi stiamo facendo penso un grandissimo lavoro nell'interesse dell'Italia ma dico di più nell'interesse dell'Europa perché poi quando si tratta di aggiornare le liste Schengen significa fare interesse dell'Europa Volevoli Pagani sì tante cose sono state dette l'arma in effetti è un unicum a livello internazionale è qualcosa di strano io uso questo termine una casa militari che fanno compiti di polizia in realtà poi si è capito che questa stranezza è anche una grande opportunità è un grande pregio possiamo operare in contesti difficili sotto anche comandi militari facendo attività di polizia con canoni e con criteri italiani che sono criteri di alta democrazia su questo nessuno lo può negare è proprio quello che a volte questi paesi proprio cercano chiaro che siamo una risorsa per l'Italia chiaramente con numeri che possiamo ovviamente proiettare all'estero però è qualcosa che altri paesi in ambito NATO o in ambito dell'Unione Europea non hanno e quindi è chiaro che è una risorsa per la difesa ma devo dire che il nostro ministro è molto attento sempre molto interessato e cerca di valorizzare questa componente che alla fine costa poco e aiuta a fare la diplomazia militare a livello internazionale certo ovviamente non siamo sostitutivi delle altre forze armate a cui chapeau va riconosciuto un merito straordinario e qualcosa in più è complementare rispetto a quello che fanno le forze armate tradizionali che altri paesi non hanno quindi benvenga un impiego nell'interesse dell'Italia e nell'interesse delle aree dove si fanno questo tipo di interventi mi è piaciuto il termine usato dell'onorevole Milione originalità in effetti siamo originali però in originalità costruttiva che abbinata questa originalità organizzativa a quello che è nell'indole dell'italiano che è per il dialogo e per una forma di empatia abbiamo delle potenzialità enorme nell'impiego internazionale perché poi alla fine bisogna anche operare nel rispetto delle culture locali ed è anche questo il motivo per il quale ci cercano non siamo invasori non siamo colonizzatori di seconda battuta siamo esportatori di una nostra cultura e devo dire poi molto spesso questi paesi ci danno anche qualcosa in cambio perché conosce le dinamiche africane si può riportare in Italia cultura per i nostri carabinieri riguardo a tutta l'attività di polizia io penso che in Europa si siano fatti i passi al gigante negli ultimi 15 anni 20 anni ora Europol è un organismo che sta sempre più funzionando un rapporto di collaborazione eccezionale abbiamo risolto tante situazioni adesso con la procura europea EPPO poi delle scelte sono state fatte negli equilibri europei deve ancora partire in realtà tutto il sistema EPPO noi ci siamo organizzati come carabinieri abbiamo fatto addestrato appositamente personale per quella tipologia di reati sicuramente il sistema richiede da tempo per andare in equilibrio con le competenze delle procure chiamiamole ordinarie vorrei ricordare che c'è anche Eurojust che non attiene a funzione di polizia attiene a un coordinamento delle autorità giudiziarie che a livello sovrastante comunque Europa o l'Eurojust in collegamento danno un prodotto migliore rispetto a quello di vent'anni fa probabilmente ancora c'è tanto da fare però come dire forme di resistenza tra paesi non ce ne sono c'è una volontà di collaborare nel campo dell'attività di polizia per molestando che poi il diritto penale è nazionale però non devo dire in questi ultimi anni non ho mai trovato un paese che si oppone che fa resistenza anzi c'è una volontà soprattutto sui grandi temi meteorismo inevitabile ma anche quello della criminalità organizzata c'è proprio un desiderio di scambio di collaborare di fare squadre laddove ce ne sono esigenze squadre congiunte non vedo una forma di resistenza nazionalista su questo tipo di argomento anzi c'è proprio esattamente il contrario il modello di difesa europea che ha sollevato l'orrevole migliore ho parlato di non riguarda me ovviamente la difesa è qualcosa che va al di là dell'arma dei carabinieri però io ho parlato nella mia relazione di Eurogenfort in realtà Eurogenfort è un trattato tra cinque paesi e poi hanno aderito altri paesi che è già costituito un comando europeo non è italiano anche se sta a Vicenza europeo per il dispiegamento di forze di tipo gendarmeria laddove c'è un'esigenza di crisi o laddove c'è un'area di crisi ovviamente sulla base di scelte che farà l'Unione Europea è stato un po' sottimpiegato ma potenzialmente domani l'Unione Europea decide di intervenire in Africa o decide di intervenire non so dove nell'estero europeo tutela dei propri interessi tolta la parte militare che è qualcosa di più ampio e generale come capacità di intervento di polizia anche in area di crisi c'è già questo Eurogenfor il comando viene dispiegato vanno ovviamente a questo assemblato le forze che ogni paese potrebbe mettere a disposizione per cui in realtà è già un esempio efficiente di un impiego europeo di una gendarmeria secondo canoni dell'arma dei carabinieri a grandi linee quindi non è una cosa è già è già in un trattato è già in un accordo poi che fino ad oggi sia stato poco impiegato è anche questa la realtà però dalle potenzialità enorme adesso passano il tempo nell'organizzare nel pianificare ma domani potenzialmente se l'Unione Europea decidesse di impiegare due reggimenti tre reggimenti di guardia civile il carabinieri di gendarmeria adesso me lo sto un po' inventando già c'è il comando in un mese si parte non c'è bisogno da fare nulla l'onorevole De Hidda protocollo questa è la cosa perché no protocolli noi cerchiamo protocolli chiaramente è una scelta che dovrà fare probabilmente la Regione Sardegna ma dove giustamente essendo una Regione statuto speciale non so se ha questo interesse io questo non glielo posso dire non lo so ma da parte nostra cerchiamo queste forme di collaborazione anche con la Regione statuto speciale anzi lo spichiamo nel rispetto ovviamente delle competenze e delle proprie attività protezione delle ambasciate ho già detto che già la legge è prevista 50 unità in più in legge di bilancio ci dovrebbe essere altre 100 unità credo che è un investimento anche per il Paese la difesa delle proprie sedi che poi questi carabinieri io devo dire adesso mi tolgo l'uniforme per un attimo quando vanno italiani presso le sedi a fine chiedono al carabiniere per anche piccole cose dono sempre cortesia trovano un po' d'attenzione i carabiniere poi così sono fatti sono anche in utilità per il piccolo del funzionamento dell'ambasciata devo dire il corpo diplomatico è felice ho solo ricevuto parole di plauso nei confronti del comportamento di questi carabinieri e questo è un elemento in più poi le scelte che farà il Parlamento sui numeri sui numeri diciamo sulla spesa che si vorrà sostenere però diciamo il trend è quello di aumento delle unità all'estero anche se parliamo ovviamente di qualche decino non parliamo di migliaia di persone il problema complessivo dell'incremento della forza che ha sollevato il problema dei docepper che noi dal 2012 siamo andati in decremento della forza però adesso siamo in aumento uso un termine improprio dal governo Gentiloni che ha previsto un governo del Parlamento dei reclutamenti straordinari il primo governo contro i reclutamenti straordinari dovremo incrementare fino al 2025 di circa 6 mila unità complessive il problema è che ad oggi non abbiamo più posti letto cioè se anche il Parlamento decidesse facciamo un reclutamento straordinario per il 2022 o 23 di 3 mila carabinieri non so dove metterli né io né la Polizia di Stato né la Finanza per l'attività destrativa perché le scuole hanno capienza ormai saturata poi il Covid non ci ha certamente favorito perché chiaramente ha dimezzato le aree disponibili dovendo fare distanziamento per cui ad oggi la situazione è questa in prospettiva potremmo incrementare le forze di Polizia dal 2025 in avanti giusto per darle un po' riferimento al di là di qualche piccola qualche centinaio di ritocchi che possono comunque sempre capitare l'onorevole formentino abbiamo parlato ah ecco per dare risposta l'onorevole pergo sì certo voglio dire Siria Yemen non ci sono le condizioni operative come potete immaginare per mandare i carabinieri per l'ambiente o comunque i carabinieri per i beni culturali vorrei solo però dire che con lo Yemen la ONU ci ha chiesto di addestrare delle forze di polizia Yemenite cosa che noi faremo a Djibouti questo è l'accordo quindi manderanno degli Yemeniti già al corso che noi facciamo a Djibouti per conto degli stessi Djiboutini e dei Somali e inserremo anche degli Yemeniti in sintesi per noi significa esportare cultura italiana che ci deve dare orgoglio significa far crescere queste forze di polizia che con canoni europei questo dovrebbe darci orgoglio e soprattutto per noi significa poi fidelizzare questi paesi verso l'Italia perché la fidelizzazione il guardare un paese è importante sono operazioni che costano poco la missione del perso anno dobbiamo spostare chissà quali cose e soprattutto le forze di polizia in questi paesi hanno un peso specifico importante e quindi io credo che questo impiego dei Carabinieri anche se nei numeri che ci siamo detti è utile per il nostro per il nostro paese ho risposto più o meno tutti manca qualcosa anche puntualissimo perché dobbiamo chiudere la seduta mentre la commissione difesa che rimane qui la commissione difesa si riunisce in quarta io ringrazio molto il generale Luzzi che mi pare abbia anche nelle risposte dato risposte puntuali esaurienti naturalmente ringraziando lui ringraziamo tutto il corpo e l'arma dei Carabinieri per tutto quello che quotidianamente fa non solo in Italia ma nella proiezione internazionale secondo le linee che ci sono state indicate grazie grazie a voi veramente per noi una bella giornata a nome di tutti i Carabinieri grazie grazie Presidente